Macchina che inizia a muoversi, subito a rete Naldanoff, femmina da Supergill, di galoppo e neve di bianca, macchina che inizia a prendere velocità. Al comando delle operazioni c'è Naldanoff, Narcos NP e Noab, quindi Naldanoff che passa in avanti su Narcos NP che cerca di sistemarsi, poi c'è Noab, ancora Ninho, in avanti Naldanoff, Narcos, ancora il numero 1 di Noab, poi c'è ancora Nuvola di Kube, quindi il 3 di Napoleone Lanz, fanno sportellate sia il numero 8 di Norton Lanz e poi Noakostnest, B, Naldanoff, Noab, che ora viene via e cerca di andare a attaccare a fondo proprio Naldanoff, Noab che insiste a largo di Naldanoff, quindi il numero 7 di Narcos NP, a largo c'è il numero 3 di Napoleone Lanz, quindi ancora Norton Lanz, Naldanoff, Naldanoff, Noab, Narcos NP, ancora il numero 3 di Napoleone, quindi Norton Lanz, in avanti Naldanoff, Naldanoff che controlla la situazione, Naldanoff viene via a largo Norton Lanz, Naldanoff che prova la fuga da Noab, intensifica l'azione a largo Noab, c'è Norton Lanz che viene via e con velocità assai interessante, Naldanoff che prova la fuga, Noab B, Norton Lanz a largo, quindi il numero 3 di Napoleone Lanz, Naldanoff, Noab B, ancora Napoleone, poi Norton Lanz, quindi Naldanoff che prova la fuga, Naldanoff che controlla la situazione, Naldanoff, ancora Norton Lanz, Naldanoff che prende vantaggio, quindi Naldanoff e Pippo Gubelini che si lanciano verso la vittoria, vittoria che c'è per Naldanoff e Pippo Gubelini, al secondo posto c'è Noab B che è secondo, al terzo c'è anche il numero 6 di No Contest B perché probabilmente ci sono due errori, almeno visibilmente c'è Napoleone Lanz che sbaglia, c'è anche Norton Lanz, rivediamo il rallenty che la regia ci propone con una facile Naldanoff che vince questa corsa, al secondo posto il numero 1 di Noab B, mentre per il terzo c'è il 6 di No Contest B, chi ha la meglio?